La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha eseguito il provvedimento di confisca che riguarda un'azienda agricola, 77 terreni, 11 fabbricati, rapporti finanziari e beni mobili. Il valore complessivo è di 8 milioni di euro. Il destinatario della confisca è Felice Cannata, già condannato con sentenza irrevocabile del novembre 2015 per associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione alla sua appartenenza al clan di Pietra Persia in provincia di Enna. Cannata era stato condannato perché si era occupato di reimpiegare capitali illeciti in attività produttive nel nord Italia, in particolare nel settore della compravendita di autovetture di grossa cilindrata. Il provvedimento di confisca per 8 milioni è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Enna.